L'obesità è sicuramente una delle più grandi piaghe del nostro secolo. Questo perché di per sé non è una malattia invalidante in senso stretto, ma perché ha una conseguenza per altre parti, soprattutto per inclusioni di altre comorbidità differenti, che nel corso del lungo periodo possono portare comunque ad un aggravamento e anche a un arresto completo comunque del nostro organismo, con tutte le conseguenze del caso. Per obesità andiamo a intendere un accumulo di tessuto adiposo nel nostro organismo stesso. Generalmente il tessuto adiposo presente già nel nostro organismo ci serve in primis quindi per secerne le romoni, quindi che sono essenziali appunto per l'attività endocrine, ma anche per la protezione e soprattutto quindi in questo caso mantenimento dello stato omeostatico. Valesse dire che il grasso potrebbe essere sia tessuto adiposo bianco o tessuto adiposo bruno e possono essere interconvertibili tra loro, per esempio il tessuto adiposo bruno non è un caso che di fatti abbia un'aumentata termogenicità dovuta alla presenza di mitocondri nel suo nucleo. Ma il classico tessuto adiposo bianco soprattutto è quello praticamente chiamato come ciccia e la particolarità è che è proprio un tessuto endocrino funzionale, vale sia dire che è un tessuto di per sé che secerne comunque ormoni e dialoga con altri bersagli molecolari presenti nell'organismo stesso. Questo può andare a incidere con un meccanismo d'aumento di infiammazione, questa infiammazione può anche essere un'infiammazione silente che continua cioè nel corso comunque di vari anni o tempo o mesi per cui permane questo tessuto adiposo. Perciò l'infiammazione da lì in poi continua a portarsi nel tempo e causa danno. Danno un micro, al microcircolo per esempio un microvascolare o un macrovascolare. Il danno chiaramente può essere reversibile, questo si deve anche alla perdita di peso e quindi una riduzione della massa grassa. Ma cosa succede però se io non vado a ridurre la mia massa grassa e continuo a aumentarla? E quindi l'eccedenza del peso stesso che porterà un sovraccarico anzitutto comunque della zona in cui il tessuto adiposo è presente per migrare in altre parti, quindi facendola breve un sovraccarico comunque articolare. Sovraccarico articolare che comprometterà anche la postura e la statura del soggetto stesso, sovraccarico articolare quindi che protrerà in questo caso insorgenze di osteoporosi, di possibili fratture per cadute, ma anche avremo anche un infarcimento stesso degli organi. Principalmente gli organi si possono osservare come per il fegato grasso, organo che presenta comunque un'infarcitura molto elevata e una lucentezza dovuta al grasso stesso se vi è una adiposità molto molto spinta. Potremmo avere anche un infarcimento della regione comunque toracica e difficoltà comunque all'espansione polmonare, per cui un paziente obeso dispneico farà molto più fatica ad avere ali rispetto ad un paziente enormo peso, questo perché la sua dilatazione della cassa toracica sarà comunque molto molto restrittiva rispetto comunque a una cassa toracica normale dovuto per l'accumulo e per un maggiore lavoro di forza resistenza che ha nell'espansione della cassa toracica stessa. Badate bene però che sono tutte condizioni reversibili. La condizione reversibile quindi è attuare se il soggetto comunque è sovrappeso obeso un'ipocalorica. Chiaramente si vede a prendere caso per caso, se ho un soggetto comunque con una dieta che è ipocalorica io presuppongo che sia sovrappeso, ma se il mio soggetto in questo caso può essere, o è possibile che sia anche diabetico, iperteso, con insufficienza renale, con obesità molto spinta, con altre problematiche che possono riguardare anche fegato grasso, possono riguardare anche un malfunzionamento del pancreas, possono riguardare anche coliche renali, possono riguardare anche malattie cardiovascolari, possono riguardare patologie del micro e del macrocircolo, possono riguardare anche stroke, eventi di ictus, oppure possono anche riguardare banalmente anche eventi osteoarticolari e quindi un soggetto quindi che ha poca mobilità. Allora dovrò prendere in considerazione comunque delle caratteristiche o delle qualità differenti per andare a modificare il mio piano dietetico. Ciò però non toglie che il principio sia sempre comunque lo stesso, vale sia dire che io tendo comunque ad eliminare certi tipi di alimenti che in questo caso sono molto fortemente energetici e tengo a mantenere uno stile di vita molto attivo, sempre riferito in base a livello che la persona riesca comunque a muoversi e che possa avere una certa motilità sua, preferibilmente. Il tutto chiaramente sarà correlato a una terapia farmacologica, ben si intenda, se la persona quindi non riuscirà comunque a perdere peso. Nei casi più gravi quindi si parla anche di intervento di chirurgia bariatrica del tratto gastrointestinale, soprattutto per quanto riguarda la bariatrica dello stomaco stesso. Con Ballung Intervently, per esempio il palloncino gastrico sostanzialmente, oppure potrebbe essere anche una resezione o un bypass gastrico. Nei casi più estremi dove addirittura il palloncino non funziona, si ha una rottura del palloncino, l'individuo in questi casi si iperalimentano, casi comunque di obesità grave siamo oltre il terzo livello, attenzione di obesità non il terzo livello del Super Saiyan perché alcuni potrebbero pensare bene, quindi sono persone che arrivano anche a 130-150 kg. La parentesi da aprire quindi è che la mia problematica è la mia paura sostanziale che noi ci stiamo per lo più sempre americanizzando. Basti pensare che per quanto riguarda l'americanizzazione e la presenza di fast food a livello italiano, anche se cercano di controllare molto la qualità delle materie prime, introducendo anche la parte di frutta e della verdura, ricordiamo che comunque sono tutti cibi processati e che sicuramente non giovano, comunque così come dei cibi fatti in casa molto più freschi o a chilometro zero, c'è comunque un processamento, vi è un processo di cottura, vi è un processo comunque poi anche di chiarificazione, di frigitura, vi è un processo di addizionamento, quindi sono piatti comunque molto elaborati e molto molto complessi, ricchi di calorie. Per non cortare poi difatti tutta la problematica che viene legata in questo caso poi anche alle calorie nulle che vengono date anche dei vari condimenti. Basti pensare poi alla differenza sostanziale che vi è tra un menu potremmo dire comunque size, che generalmente viene visto da noi, con un menu classico baby americano, ebbene sono praticamente uguali, quindi basti pensare quanto l'americano medio riesca a introdurre con un menu size rispetto al nostro baby, molto molto di più e questa comunque è una grossa problematica. L'obesità come incidenza nel corso comunque delle varie aeree o epoche si è vista ad avere una maggiore incidenza stessa per quanto riguarda l'industrializzazione, quindi sicuramente le cause vanno ricercate a un maggior accesso di cibo, la particolarità che si ha di avere comunque sempre a cibo a disposizione io la chiamerei anche a portata di un click stesso del cibo, la possibilità comunque poi di introdurre cibo anche senza avere orari specifici, quando fisiologicamente noi siamo programmati a mangiare circa 5 ore tra un pasto e un altro, noi tramite la tecnologia comunque ma anche grazie a stimoli visivi, olfattivi, stress interni che alterano comunque i nostri ritmi circadiani, sonno, veglia e i ritmi che riguardano comunque i vari pasti, non sono più portato a rispettare comunque tutte queste regole ma balzo tra un pasto e l'altro, spesso comunque vado in iperalimentazione e soprattutto lo stress dell'epoca moderna che porta comunque la persona ad avere comunque delle prestazioni diverse da un'epoca comunque contadina, qual era il passato, dove comunque il rallentamento giovava molto di più per quanto riguarda la qualità della vita stessa, basti pensare al lavoro che la persona faceva, sicuramente comportano comunque una maggiore disfunzione comunque regolatoria del ritmo comunque fame e sazietà, quindi io partirei per la cura sostanziale dall'educazione dell'alimentazione stessa della persona, ovvero se la persona deve riscoprirsi, quindi quegli alimenti che sa che li fanno bene, che sicuramente le ha sotto gli occhi ma non sa come abbinarli, l'abbinamento è davvero importante, ritornando poi avrà una figura come caregiver che la seguirà sempre e comunque per cercare di farle perdere il peso essenziale e mantenere in uno stato nutrizionale ottimale senza incorrere in malnutrizione, perché questo lo scoprirete comunque nel prossimo video.